Prende ora la parola il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, Antonio Tommaso De Mauro. È un'emozione vedervi qui, scusatemi, ma è bellissimo rivederci insieme dopo tanto tempo. Colleghe, colleghi, signore e signori, autorità, a nome mio di tutto il Consiglio dei Consiglieri dei Consigli dell'Ordine di Taranto e di Brindisi, con i loro Presidenti Avvocati Antonio Vito Altamura e Claudio Consales, della precedente Consigliatura Leccese, per tutti Roberta Altavilla. Dove sei Roberta? Eccola. Un applauso. E Raffaele Fatano, che hanno il merito di aver proposto Lecce per ospitare questo prestigioso avvenimento e dell'Avvocatura Salentina Ionica tutta. Vi porgo il benvenuto a Lecce, non senza sentire il peso e la responsabilità di questo momento. La nostra bella città ospita il Congresso nazionale forense dopo oltre 40 anni dalla precedente edizione, che sotto la presidenza dell'Avvocato Vittorio Imone accolse la massima assise dell'Avvocatura. Ed è un benvenuto, signore e signori colleghi e colleghi, che tutta la città vi porge. Intendo infatti ringraziare l'amministrazione comunale con il sindaco Carlo Salvemini, la comunità accademica salentina con il magnifico rettore Fabio Pollice, che hanno collaborato con il Consiglio dell'Ordine per la migliore riuscita del Congresso. Carissimi Presidenti del Consiglio nazionale forense Maria Masi, coordinatore dell'organismo congressuale forense Sergio Paparo e Presidente di Cassa Forense Walter Militi, discuteremo dell'Avvocatura, il suo ruolo costituzionale come risorsa necessaria per un cambiamento sostenibile e avremo modo di riflettere sulla rilevanza della funzione difensiva e sull'incidenza dell'Avvocatura nelle dinamiche sociali. Un tema congressuale particolarmente attuale, sia per il richiamo al rilievo costituzionale della funzione difensiva, sia per la valorizzazione del tema del cambiamento, che ai giuristi, forse più che ad ogni altro protagonista della società, chiede di assumere il ruolo di regolatori del futuro. Il primo profilo non può che declinarsi nell'ottica della tutela degli interessi, dei diritti, delle libertà del cittadino. È inevitabile che l'effettività della difesa non può concretizzarsi se non è affidata ad un tecnico, il quale solo può operare un inquadramento della fattispecie nella cornice ordinamentale e nel sistema nel suo complesso considerato, ed evidenziare gli elementi idonei a supportare le tesi della parte assistita. Ed è per questo che, in alcuni casi anche contro il sentire comune, l'Avvocato è chiamato a difendere anche gli autori dei crimini più efferati, perché sia assicurato che la risposta dell'ordinamento sia la più appropriata e la più corretta dal punto di vista tecnico. Ruolo ancora più rilevante in un momento storico nel quale assistiamo ad una evidente crisi del giuspositivismo. La rilevanza della formante giurisprudenziale è tale che il ruolo dell'interprete e il processo ermeneutico della norma assumono una rilevanza tale da risultare indefettibili nella ricerca del fine effettivo della norma e della realizzazione del diritto vivente che ha il compito di regolare il nostro stare insieme. Il futuro, invece, assegna, a mio modesto modo di vedere, un ruolo forse ancora più importante all'Avvocatura. Abbiamo già sperimentato un futuro che nessuno di noi auspicava. A questo punto vi chiederei un attimo di silenzio per ricordare tutti coloro che purtroppo ci hanno lasciato. Grazie. E qual è stata la reazione degli Avvocati? Quella di mettersi immediatamente al servizio del cittadino. I protocolli, le linee guida che hanno visto la fondamentale partecipazione dell'Avvocatura hanno consentito con luci ed ombre di riavviare la giurisdizione, compito indefettibile di uno Stato di diritto. La nostra attività ha permesso di rendere sempre viva e attuale la richiesta di giustizia e le forme di tutela dei diritti. La nostra capacità di leggere e interpretare le norme ci ha permesso di individuare di volta in volta le giuste forme di disciplina delle attività umane, che hanno dovuto confrontarsi con le esigenze della collettività e misurarsi con la tutela di diritti sovraindividuali. Ma ci siamo riusciti, abbiamo superato la tragica emergenza, siamo tornati a svolgere il nostro compito con la passione e la competenza di sempre, lasciatemelo dire. La sostenibilità dello sviluppo è il tema che affronteremo in questi giorni, sostenibilità normativa, soprattutto in un periodo di grandi riforme, economica, professionale. A tutti noi che siamo stati chiamati dalle colleghe e dai colleghi a rappresentare qui l'Avvocatura italiana tutta, il compito di avere la capacità di proporre, la forza di propugnare, la tenacia nel perseverare, con la certezza che nessuna giustizia predittiva né alcuna intelligenza artificiale potranno sostituire l'essere umano chiamato a piegarsi verso il suo simile e a leggere la norma in funzione della persona, nei confronti della quale il comando generale astratto della norma è chiamato a divenire regola concreta dell'agire. Non abdicheremo mai a questo compito che la storia e la natura stessa ci hanno assegnato. Amiche, amici carissimi, Lecce vi accoglie con le sue bellezze naturali, artistiche, con la sua storia e con il valore del proprio ceto forense che ha dato al Paese illustri avvocati, prestigiosi giuristi, ministri di giustizia, con l'affetto e la voglia di condivisione di tutti noi che è propria di professionisti che, come noi avvocati, impegnano l'intera esistenza a tutelare e difendere i diritti dei nostri assistiti. Permettetemi di chiudere questo mio brevissimo intervento di saluto ricordando le parole che, 40 anni fa, Vittorio Emone, il nostro indimenticato maestro, porgeva nel saluto all'avvocatura italiana tutta. Diceva Vittorio Emone, al domani, signori, gli avvocati italiani hanno fisso lo sguardo, pronti a condizionare i loro compiti e la loro vita alle esigenze del momento storico che stiamo vivendo, pronti a cogliere i fermenti che provengono dal Paese e a dare il loro contributo per la soluzione dei gravissimi problemi che ne sono la conseguenza, gelosi soltanto dell'autonomia del loro ordine e della propria libertà, perché sanno che autonomia dell'ordine e libertà dell'avvocato sono garanzie insostituibili per i diritti del singolo cittadino e per una ordinata convivenza civile di tutta la collettività. Grazie, buon lavoro a tutti e benvenuti a Lecce!